Ciao amiche e amici, quest'anno festeggio 20 anni di carriera come DJ e ho deciso di farvi un piccolo regalo per tutti voi che mi seguite qua sui canali social. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Gli storici non sono concordi sulla data precisa di inizio delle attività di Maurizio Bianchi come DJ Nejo, però si trattava dell'ottobre del 2000 quando ho suonato al primo diciottesimo insieme ad un collega e quella serata ha dato inizio alla coppia Nejo e Mark che si è poi esibita per anni nel territorio della provincia di Firenze. Già io e Marco stavamo provando a casa, lui con i piatti, io con i cdj, insomma cercavamo di iniziare a imparare questa professione e di lì poi io ne ho sviluppato insomma una carriera, lui ha preso la sua strada, comunque siamo sempre molto amici. Avrei voluto fare una bella festa dieci anni fa, 10 ottobre del 2010, ho festeggiato i primi 10 anni di carriera e ho fatto un evento come si deve. Quest'anno purtroppo non è stato possibile se non in tono minore, quindi ho fatto semplicemente una scena con amici e la console sempre con me. Però ho deciso di fare uno speciale mix con quelli che sono secondo me i brani più rappresentativi degli ultimi vent'anni, ovvero un brano per ogni anno. Il mix si potrà trovare poi sul mio sito, allego il link in descrizione, però nel frattempo pubblicherò una traccia al giorno su Instagram e Facebook, quindi ti direi di seguirmi anche lì DJ Nejo. Sarà una selezione particolare perché scegliendo una traccia per anno dovrò anche in qualche modo seguire un ordine nella selezione, sacrificando magari forse alcune tracce o magari se c'è un anno in cui ce ne sono alcune ne dovrò sceglierne una soltanto, però cercherò di raccontare i miei vent'anni in musica attraverso quel che secondo me sono delle ottime tracce di musica house ed elettronica. Fammi sapere cosa ne pensi delle tracce e della selezione e dopo di che proseguiremo nel corso delle settimane con i video e le live sul canale. A presto e continuo a seguirmi su Essere DJ Hoy.